buongiorno ragazzi benvenuti in un nuovo vlogmas e buongiorno da una me ufficialmente sola ufficialmente sola bts tutti i partiti per il militare ieri è successo il fattaggio e infatti non ho neanche registrato il blog perché essenzialmente mi sono svegliata che avevo un fortissimo senso di nausea mi sono messa al computer come faccio sempre e gli occhi mi si incrociavano e avevo una nausea ancora più forte stando con lo schermo del computer infatti ho fatto una diretta su instagram poi la sera dove vi ho spiegato tutto il fatto ci siamo un po' divertiti a chiacchierare e siamo stati un po' così quindi oggi recupero tutto quanto adesso edito il video che non ho fatto ieri lo carico e appunto oggi iniziamo a registrare questo ho una faccia sbattutissima non riesco a dormire bene peggio del solito stamattina mi sono svegliata 800 volte e una di queste volte ho deciso bene di prendere il telefono e di controllare se sul sito di weverse ci fosse la famosissima lampada vi ricordate la mood lamp con la djk che ho provato a prendere per vi giuro settimane era impossibile l'hanno rimessa ultimamente è anche lì sold out impossibile ho detto ma fammi aprire e fammi vedere cosa ci offre questo sito oggi ragazzi c'era e quindi l'ho presa anche perché mi ricordo che l'altra volta costava un pelo di più stavolta l'ho pagata 100 euro quindi visto che arriva a maggio è comunque l'investimento perché tempo che arriva sicuro questi soldi li avrò rifatti e sarà come un mio regalo di compleanno praticamente perché io sono nata aprile questo arriva un mese dopo il mio compleanno ma dettagli quindi ce l'abbiamo fatto cioè ragazzi vi faccio vedere perché non ci credo anch'io tanto di sottofondo sempre the bumper diaries perché ovviamente è il mio rifugio questi giorni eccolo ragazzi è tutto verità e questa appunto è la schedule per la delivery fine maggio 2024 però abbiamo la nostra lampa del prezzo che vedete ovviamente è in one non ci credo questi saranno ufficialmente gli ultimi soldi che spendo per i bts poi lo sapete io adoro le mood lamp le ho ovunque in casa quindi questa sarà sicuramente una bella aggiunta detto ciò è tardissimo perché ripeto mi sono sdriata mi sono rimessa a dormire quindi è mezzogiorno e mezza e adesso faccio subito colazione ho tirato fuori il pollino per ami così lo metto anche nella sua pappina ma vuoi la pappina sei un gattino che sei sul bracciale del divano per me invece ieri ho preso questo avocado quindi eccolo qua vi spiego anche cosa ho fatto un po' ieri però mi riprendo un attimo e mi mangio qualcosa qui ci sono i peperoni e il pollo che è avanzato quindi metto tutto qua dentro tra l'altro questa settimana devo assolutamente finire tutte le cose con frigo ieri sono anche passata da Imart ho comprato qualcosina un po' di verdurine questi mini cetroline che devo trovare in modo di mangiare sono bellissimi e anche questa mini tutto mini questa mini zucchetta che voglio fare nell'air fryer adesso mi trovo la ricetta infatti lasciatemela qua fuori così trovo la ricetta e la metto subito a fare ho messo la zucchetta nell'air fryer vediamo un attimino io adesso ho messo 25 minuti circa un po' più di 180 gradi 185 vediamo cosa succede non lo so e poi ieri avevo preso questo sempre da Imart che è un paninetto di quelli col formato dovrebbe essere dentro vediamo un pochino com'era scaldato un attimino perché appunto ieri avevo detto al signor fidanzato che non mi sentivo bene quindi è avvenuto e siamo andati a fare un giretto da Imart perché non avevo più niente in frigo e questi giorni non mi va tanto di uscire farà freddissimo da domani quindi oggi sono giusto giusto in tempo per uscire perché dopo appunto mi devo vedere con la mia amica però penso faremo insomma una cosa molto tranquilla abbiamo preso questi ma ci siamo accorti che non ci hanno tolto il taccheggino cioè il taccheggio sul cibo questa cosa mi è nuova però sì e poi sul bene più prezioso della Corea ovviamente il kimchi questo lo devo assolutamente mangiare prima di andarmi perché sennò si fa super cattivo qui si può intravedere qualcosa questo qui è il pachimchi che è il kimchi di cipollotto praticamente ero indecisa se prendere questo o quello di radish insomma però alla fine ho preso questo qua quindi provo questo poi cos'altro ho preso interessante vabbè ho preso la panna spray perché gli ho provato a fare le crepe sono note molto buone vabbè molto semplice devo ancora fare la ricetta della fish cake che ce l'ho qua insieme al cipollotto questo qua è il topo key quello di salsa di soia poi appunto ho preso un po' di verdurine un po' di robe alcuni snack che devo portare a Alessia qui ho fatto una ricarica assurda dei miei ravioli preferiti che sono questi sono i soup dumplings non potete capire quanti ne ho contiamoli uno due tre quattro cinque forse anche qui sei sei confezioni e poi adesso voglio invece provare a farmi il caffè latte poi tra l'altro anche ieri a spiegare al signor fidanzato come si dice latte in italiano gli ho detto ai pretenti quando ordiniamo il caffè il vanilla ice latte ecco latte qua lo intendono come un cappuccino gli ho detto in realtà latte da noi è solo uiu è solo latte è solo milk e lui tutto e poi gli ho detto come si dice in realtà latte e caffè da noi cappuccino insomma se noi gli spiegavo latte macchiato ci mettiamo una vita gli shock qua sono all'ordine del giorno quindi eccoci qua con il nostro latte quanto è carina questa marca di latte questo è il latte proprio quello di di soul proviamo questo orsetto perché ho preso lo stamp da Aliexpress e voglio provarlo prima mettiamo il latte poi proviamo a togliere lo stamp nooo guardate i piedini non siete sono contro luce nooo vi prego ma che carino ora ce l'ho putto dentro e dovrebbe navigare l'ursetto se n'è andato nooo ecco quello qua il nostro russettino questo è davanti nooo ma vi prego inizio a prepararmi perché sono già le 3 e 15 e io devo essere fuori casa tra una ventina di minuti a parte mi sono fatta la skin care sono tutta rossa ma non ci facciamo caso faccio un make up molto molto veloce molto semplice volevo provare questo nuovo fondo BB cream insomma di Misha questo qua il colore bright beige ed ha l'SPF e l'ho vista utilizzare su TikTok dicono che è favolosa io questa qui l'avevo presa su YesStyle mi pare sì il colore mi sembra abbastanza giusto e la voglio provare perché dicono che è molto coprente a parte che ha un profumo buonissimo mi ricorda i fondotinta che usava mia nonna che io usavo sempre quando li trovavo sul mobiletto e andavo a casa sua prima lo picchietto con le dita poi vado con la sponge voglio provare a fare il metà viso per farvi vedere l'effetto perché ovviamente è una BB cream quindi è sempre molto modulabile e la sento anche molto leggera diciamo lo sapete il mio problema principale sono più che altro i rossori e le varie discromie molto bello eh bellissimo l'effetto non so ancora bene in quale caffè andrò con Lara a parte devo ancora andare a vedere sto famoso waterfall caffè che dicono che sia vicino Hongde ma in realtà poi se io controllo sulla mappa è sempre più distante però oggi non è una giornata adatta perché è troppo nuloso poi devo passare a fare gli ultimi regalini e tra l'altro lì a Hongde c'è un convenience store che io mi ricordo che è vicinissimo al primo hotel dove siamo state appunto la premessa volta che siamo venuti in Corea con Yepda che ha tutti 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 degli snack quindi poi mi fermerò lì e vi faccio anche vedere qualche snackino interessante che se vi venite qua dovete assolutamente screenshotare, vi segnate perché sono pazzeschi e li porterò appunto anche in Italia per chi vorrà provarli poi devo passare da Artbox un attimo mi è venuta l'illuminazione l'altro giorno e mi sono ricordata che cosa posso prendere per Alessia in più mi ha fatto una lista di cose che vorrebbe che le comprassi da portarle perché appunto lei arriva il giorno prima di me in Italia perché appunto viene anche lei per stare a Natale quindi poi ovviamente ci vedremo che sia ben chiaro io ero partita con le buone intenzioni di non rifiutare almeno ho fatto il mio solito make up solo che non ho messo un po' di bottino comunque ho fatto tardi, tardissimo con padre che è veramente tardi e devo stare a quest'ora ma quando mi viene visto ancora aspettando l'auto che mi è passato davanti gli occhi quindi già sapevo che avrei dovuto aspettare 10 minuti per il prossimo quindi aspettiamo 10 minuti comunque mi dispiace che in questi giorni in boy media ad esempio io mi ha il cappello il giorno non lo faccio opposta ma non riesco ad uscire senza il cappello perché ho tutta la ricrescita sui capelli cioè mi dà tipo idea di trascuratezza e non è l'idea che voglio dare in estesa naturalmente non in questi giorni quindi almeno lasciatemi costare questo cappello sono arrivata qua da Starbucks oggi ho preso la cartellina questa qui perché mi ricordo che è buona e non è troppo dolce ho abbandonato il mio tiramisù me lo mangio in Italia magari ho preso il caramel io ho preso il mio manila latte stiamo raccontando tutte le nostre avventure disavventure aspetta, ci arrivavo, volevo l'Italia prima le cose belle e poi no, forse di solito è meglio dire prima quelle belle e poi quelle belle vabbè adesso ci vediamo il caffettino poi vediamo, poi si risolve tutto no ragazzi sono gli angels gli hanno rimessi i darbo purtroppo erano acquistati in questo momento perché no questi qua sono troppo carini quelli del compleanno mettiamo a fuoco questi sono gli animalini che vanno anche sul telefono e questi quelli di Natale cioè guardate i cappellini adesso me ne prendo un pochino infatti ok siamo nel posto dei mille snack ragazzi stiamo decidendo cosa portare quelli sono buonissimi intanto ho messo un po' di roba vediamo cosa possiamo scoprire per farvi assaggiare più che altro questo vorrei delle cose strane che dici da noi proprio non si trovano impossibili quella è la pizza, guarda davanti a te è proprio pizza Italia letteralmente non sono male eh le provate? si, si si? vergognati non sono male di cosa sanno di origano per proprio il mezzo ma neanche sanno tipo la pizza tipo non dico la pizzaiola però mi sono anche come di scritto ho proseguito il mio shopping poi magari vi faccio dare una sbirciata ma siamo incappate qua al centro commerciale e izi plaza e c'è tutta questa sezione action figures marvel eccetera eccetera guardate questi star wars league of legends questi di avatar no ragazzi aspettate cioè nei tiri non a caso è viola guardate che bella se oggi non avessi già speso un capitale l'avrei presa probabile ma più prego sono troppo bellini qua c'è quella di Elsa anche che è troppo carina no vabbè voglio vivere qua a noi purtroppo ci metti qua alla fine sono appena tornata a casa ed è tardissimo perché sono le 22 esattamente quindi devo cenare penso che userò appunto questi perché li voglio provare quello che ho fatto vedere il brodino questo qua adesso lo scaldo nel pentolino e poi ci metto questi spaghettini che li avevo presi e li devo finire poi qua ho tirato fuori il pollo per ami e ho anche le zucchine che avevo grigliato che stanno ancora qui le devo finire prima cosa si mette qua Netflix grazie mille questo fantastico programma credo sia Crash Landing o New perché lo mandano a ripetizione qui riprendiamo The Bumpard Diaries poi vi faccio vedere le cosine che ho preso e dobbiamo anche aprire un Sony Angels che ne ho presi un po' e devo anche dare l'acqua alla piantaina perché sono passati tre giorni forse anche quattro ecco qui Principe invece Principe sto aspettando la va a pina e poi usciamo allora ho assaggiato questo da solo questo qui l'aspetto e vi giuro è fortissimo è forte proprio l'aglio questo è il contenuto ce n'è tantissimo all'interno quindi non spero di finirlo ma che brutte lo avrà signor fidanzato perché poi dovrà andare via alla fine ho switchato gli spaghettini perché mi sono ricordata che avevo questi quindi ho messo il brodino e adesso faccio andare piano piano giù questi nudolini mi sono ricordata che nella friggitrice ad aria c'era anche la zucchetta è venuta buonissima super morbida molto buona ce la scavate così col cucchiaio alla bene meglio fantastico stavo facendo un piccolo video dove aprivo appunto i Sony Angels questi qua e ho trovato questi mi sono troppo bellini ovviamente io sto aspettando di trovare il coniglietto ma la vedo lunga ma continuerò finché non lo trovo eh attenzione perché lo voglio mettere sulla cover perché praticamente molti li mettono sulla cover e lo avete poi no in questo modo però ho detto perché non aprirne uno anche qui con voi per ora ho trovato queste tre edizioni cioè quella di Natale una la regalo ovviamente ad Alessia questa del compleanno che la devo regalare ad un'altra persona e poi ci sono questi che sono i classici che sono appunto gli animaletti io vorrei il coniglietto quindi apriamolo subito e vediamo non lo so ho un po' di paura no niente orecchie quindi non credo sia il coniglio anche questo questo c'è ma ehi non è un coniglio ma è un non capisco aspettate devo leggere l'op ear rabbit ah è un coniglio ma con le orecchie abbassate ma ragazzi io potrei usarlo perché comunque è un coniglio vedete lo attaccate così e avete un culetto per sempre quando guardate al telefono avete un culetto altri regalini per Alessia sono due vanno insieme questa crema sempre per lei per me ho preso perché ragazzi io ho talloni secchi questi giorni c'è solo il tallone ho provato a prendere questi da Daiso che sono dei patch proprio idratanti per i piedi vanno tenuti uno o due ore io faccio la doccia e poi me li metto e ho preso anche questa crema avevo già preso una cosa simile da Olive Young però non è che io vedo tutto sto miglioramento quindi non lo so poi ho voluto prendere questa crema depilatoria c'è scritto che si fa in doccia non lo so quanto può essere valida che costi due euro proviamo più che altro perché sempre con la lametta io non ho tantissimi peli quindi non ha proprio senso però vabbè e poi qui ci sono tutti gli snack che ho comprato finalmente e questo ah questo qua è il fondotinta sempre per Alessia nella sua bustina che tra l'altro è il mio fondo preferito che è questo qua ogni volta che lo provano le persone poi se ne innamorano questa è la cioccolata sempre per Alessia con il buon Jimin e quindi vabbè insomma un po' così ragazzi adesso vado di là in cucina con il mio telefono brandyzee adesso abbiamo anche un nostro rabbit per provare a fare sta cacchio di fish cake ce ne uscirò prima voglio provare a farla poi mi vado a fare la doccia e mi strucco e tutto quanto anche per oggi ragazzi siamo giunti alla fine di questo vlogmas ho passato le ultime due ore in realtà ho cercato di fare la cacchio di fish cake e vi giuro ho un fail perché mi sono distratta a zero secondi sto cacchio di fornello induzione io devo ancora capirlo l'ho un po' un po' sbruciacchiatina però non è venuta malissimo cioè poteva poteva venire decisamente peggio e ne ho fatta in grande quantità così me la tengo per quanto non lo so per quanti anni perché è veramente un sacco comunque affino la ricetta e poi giuro che ve la condivido sa di quello perché ovviamente ne può sapere di chissà che altro insomma quelli sono le robe però c'è qualcosa che ancora manca comunque quindi per ora è tutto per questa giornata almeno domani non ho proprio programmi non so che cosa ci inventeremo staremo a vedere detto ciò un bacio grande e ci vediamo ciao